La Guardia di Finanza e i Carabinieri di Salerno, su disposizione della Direzione Distrittuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti dell'imprenditore Gianluca Lamarca, amministratore di fatto del caseificio Tre Stelle con sede in Eboli, e del pluri pregiudicato e collaboratore di giustizia Giovanni Maiale. Con la stessa ordinanza è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Emilio Vastarella, il delitto di corruzione in concorso con Lamarca. L'imprenditore, negli ultimi anni, ha attuato una politica economica espansionistica, sfruttando risorse provenienti da una massiccia evasione fiscale attuata dall'azienda di famiglia ed avvalendosi della capacità intimidatoria di Giovanni Maiale per minacciare altri imprenditori e scoraggiarli dall'acquisto. Nel corso delle indagini si è accertato che Gianluca Lamarca, al fine di risolvere le pendenze tributarie del caseificio Tre Stelle ed i debiti che aveva accumulato con il fisco, si è rivolto direttamente al direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella, corrompendolo con un bracciale da donna in oro e brillanti ed un orologio di valore. È sicuramente un'indagine che ha consentito di scoperchiare una realtà assolutamente inquietante. È un'indagine in cui la Procura della Repubblica ha dedicato le migliori risorse in termini umani e anche in termini materiali utilizzando una polizia giudiziaria altamente specializzata. Quindi questo ci ha permesso di capire che c'è stato sicuramente un episodio, secondo noi, corruttivo, che è gravissimo e un episodio, perché poi ci sono anche tutta una serie di altre tipologie di reati per le quali si procede a cominciare dalle evasioni fiscali massicce, stiamo parlando quindi di una piccola evasione, che è assolutamente preoccupante. Inquietante, come si diceva, è anche l'accertato ritorno di un collaboratore di giustizia che quindi negli anni 1994 aveva fatto una precisa scelta, che in realtà viene impiegato ed utilizzato ancora, evidentemente per la capacità intimidatoria che ha, se no, diversamente non avrebbe avuto alcun senso, che ritorna a calcare le scene e praticamente ritorna nel territorio dove lui era all'epoca contestato perché fu condannato per associazione, delinquere, estorsioni, eccetera, ritorna sul territorio dopo aver ottenuto la capitalizzazione. La capitalizzazione, come sapete voi, è l'erogazione da parte dello Stato di una somma di denaro, di solito anche Cospicua, nei confronti dei collaboratori di giustizia che hanno esaurito il proprio apporto contributivo. Quindi, terminato, gli si capitalizza e viene erogata una somma di denaro che poi prende il posto dell'assegno di mantenimento che viene solitamente dato. La procura ha anche individuato quelli che ritiene essere i probabili possibili oggetti, diciamo così, della presunta corruzione al direttore dell'Agenzia delle Entrate? Sì, sono contestati nel capo d'accusa e confermati anche nell'ordinanza di custodia cautelare quello che noi abbiamo documentato, meglio che le indagini documentano, è la dazione materiale di un braccialetto di diamanti che è stato poi rinvenuto e sequestrato nell'abitazione dell'imputato, cioè del direttore, e per quello che viene riferito nella immediatezza della dazione da parte dell'imprenditore accusato della corruzione, la dazione di un orologio di pregio. Ed effettivamente, a seguito di queste consegne, il problema qual era? Il problema era che l'accordo conciliativo viene fatto in una certa data, se non sbaglio, viene fatto nell'ottobre del 2017. Il problema è poi un altro, che comunque non vengono sbloccati quelli che erano i crediti di imposta vantati dall'impresa e l'imprenditore, sono per svariate migliaia di milioni di euro, centinaia di milioni di euro, e l'imprenditore ha necessità di sbloccare questa situazione. Per ottenere anche lo sblocco di questa situazione interviene personalmente.